Altro argomento spinoso che attiene all'azione del governo Letta il decreto svuota carceri. In proposito è intervenuto oggi il capogruppo in commissione giustizia della Lega Nord Nicola Molteni il quale ha invitato il governo e la maggioranza a fermarsi immediatamente finché sono in tempo perché le conseguenze di questi provvedimenti non risolveranno il problema del sovraffollamento delle carceri ma incentiveranno reati e crimini e obbligheranno le forze dell'ordine a presidiare le abitazioni dei detenuti ai domiciliari anziché presidiare il territorio. Così appunto il capogruppo della Lega alla Camera Nicola Molteni sentiamo ora invece sempre su questo tema la nostra scheda nel servizio di Davide Cordua. Il ministro alla giustizia Anna Maria Cancellieri ha annunciato il suo primo provvedimento al di Castero di Via Renola un decreto che consentirà di affrontare provvisoriamente l'emergenza carceri dovuta al sovraffollamento il provvedimento tampone sarà portato domani al Consiglio dei Ministri e consentirà la scarcerazione di chi sta scontando l'ultima parte della pena circa 3.500 detenuti il decreto contiene tra l'altro un emendamento al provvedimento sulle misure alternative e la messa alla prova già all'esame della Commissione Giustizia della Camera l'emendamento prevede la detenzione domiciliare per i reati puniti con pene fino a 6 anni estendendo l'applicazione dei domiciliari rispetto ai 4 anni previsti nel disegno di legge il provvedimento del governo potrebbe alleggerire i penitenziali ma non sarà sufficiente per questo il ministero sta valutando anche la riapertura di alcune strutture ormai in disuso il nuovo decreto svuota carceri sarà portato in Consiglio dei Ministri entro la fine del mese il provvedimento riguarderà i reati minori cioè quelli che non destano allarme sociale e si muoverà sul doppio binario obbligatorio ricorso alle misure alternative, detenzione domiciliare oppure affidamento in prova a seconda dei casi per chi invece attende di uscire la scelta e portare da 12 a 18 mesi il residuo pena che i condannati in via definitiva potranno scontare a casa attenzione domiciliare